Papere a passeggio nel centro storico di Como, Cigni, all'imbocco di Viale Geno. Le città e le periferie sono semideserte da più di un mese. Alcuni animali iniziano perciò a spingersi dove prima, spaventati dalla presenza umana, non avrebbero mai messo zampa. In alcuni casi sono animali di grossa taglia, che possono persino incutere un po' di timore. È il caso di alcuni cinghiali, segnalati nelle zone montane della provincia, o di questo animale selvatico, che sembra un esemplare di cervo e che passeggiava poco prima di Pasqua nella zona industriale tra Gironico e Parè. Nelle scorse ore, invece, un nutrito gruppo di papere è stato fotografato a passeggio nel centro storico di Como, in Via Diaz. Immagini piuttosto curiose anche all'imbocco di Viale Geno, dove è stato fotografato un cigno vicino alle uova da covare.